Con questo noi facciamo crescere la speranza, perché abbiamo fisso, teniamo fisso lo sguardo su Gesù. Fate questa preghiera di contemplazione. Ma ho tanto da fare, ma a casa tua, quindici minuti. Quindi, prendi il Vangelo, un brano piccolo, immagini cosa è successo e parla con Gesù di quello. Così il tuo sguardo sarà fisso su Gesù e non tanto sulla telenovela, per esempio. Il tuo dito sarà fisso sulle parole di Gesù e non tanto sulle chiacchiere del vicino, della vicina. Grazie. Grazie. Grazie.